Eh, eh, che cosceria! Allora, mi dico che è una prova per l'esperto invece di Finanze, di tenere ora... Eh, 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 eh! Allora, mi dico che è una prova per l'esperto invece di Finanze, di tenere ora... Oh, no, no, si può fare di più! C'erano gli altri che cantavano, no? Si può fare di più! E andiamo! Pronti? Uno, due, e... Vai! Pronti? 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 E andiamo! Hey, 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 hey! Pronti? Pronti? Affetto. Grazie a tutti.